Sì, buon pomeriggio Gabriella, buon pomeriggio a tutti gli spettatori. Io mi trovo vicino Shuguyu, un paese che si trova appunto fuori Kharkiv, oggi insieme a Suor Olexia che vi presento. Siamo stati a Izium, un villaggio che è stato liberato poche settimane fa, ha vissuto oltre sette mesi di occupazione russa. Vedete attorno a noi, questa è l'Ucraina, è totalmente buio, non c'è illuminazione pubblica, solo per darvi proprio l'idea di quanto sia proprio buio pesto. Ecco, con una torcia noi riusciamo ad illuminare quello che c'è dietro di noi, ma vedete è totalmente buio, non c'è illuminazione pubblica, non c'è nulla, a volte manca anche l'energia elettrica per giorni interi. Questa è la difficoltà in cui ci si trova qui in Ucraina tutti i giorni. E a Izium veramente abbiamo visto quello che mai avremmo pensato di vedere con i nostri occhi, una città totalmente rasa al suolo, non è stato risparmiato nulla, neanche la chiesa, nulla. E poi abbiamo visto anche le fosse comuni. Suor Olexia si è fermata in preghiera oggi insieme ad altri sacerdoti. Abbiamo visto anche le fosse dei bambini. Veramente il peggio dell'umanità oggi, abbiamo visto. Molto dolorosamente guardare queste tombe. C'è tanto silenzio e molto dolore. Non si può dire niente, soltanto restare in pace e pregare per quelli che sono morti, specialmente bambini. Quando il Papa parla dell'Ucraina martoriata, oggi abbiamo visto veramente quelle immagini che danno veramente l'idea del martirio. Le bare aperte, buttate nel fango, sono stati riesumati più di 400 corpi. E poi veramente la violenza con cui i russi hanno distrutto un'intera città, un palazzo. Abbiamo visto che sembrava fossero due palazzi, ma in realtà era uno intero, spaccato a metà da una bomba e lì sono rimaste uccise 46 persone. Sono morte e poi bisognava prendere i corpi dopo di tutto ciò che è rimasto dentro. Molto dolorosamente guardare su questo. Un palazzo totalmente sventrato e c'era una cameretta aperta, abbiamo visto. C'era anche un armadio distrutto con i grembiuli dell'asilo. Sono immagini veramente incancellabili, dolorosissime. pochissimi bambini a Isium oggi e una storia ci ha colpito molto. La storia di un papà che ha perso il figlio, è stato rapito, il figlio dai russi e poi è stato giustiziato. Quest'uomo era uno scrittore molto famoso qui in Ucraina e scriveva favole per bambini. È stato ucciso perché non voleva tradurre le sue favole dall'ucraino al russo. Ecco, si muore anche per questo. Lui ha un figlio che è autistico, è rimasto con la nonna e con il nonno e devono educarlo. È molto dispiace guardare perché il papà è morto, è morto per idea. È morto soltanto per un'idea, per un'idea di libertà. Volodymyr Van Kulenko. Grazie a Suor Alexia. È tutto da Ciugui. A voi la linea.